L'intesa tra regione e Amazon è diventata realtà e diventa anche più forte. Adesso le piccole e medie imprese della nostra isola potranno ricevere aiuti dal colosso mondiale per esportare, digitalizzarsi e promuovere la qualità del Made in Italy anche all'estero. La Sicilia è quindi entrata nel programma Accelera con Amazon il percorso di formazione gratuito dedicato alla crescita e alla digitalizzazione delle start-up e delle piccole e medie imprese che un anno dal suo lancio ha già erogato 12.000 ore di lezione online coinvolgendo 11.000 imprese. In Sicilia sono già più di 1.100 le aziende che vendono su Amazon e che nel 2020 hanno realizzato oltre 20 milioni di euro di vendite all'estero attraverso il colosso statunitense di commercio elettronico. Regione e Amazon con il nuovo accordo rafforzano anche il sostegno alla promozione in Italia e all'estero dei prodotti Made in Italy, inclusi quelli siciliani, attraverso la vetrina Amazon Made in Italy dove la Sicilia è già presente con una sezione dedicata di cui fanno parte più di 150 realtà isolane. I termini dell'accordo sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dall'assessore regionale alle attività produttive, l'alcamese Mimmo Turano e dal responsabile della Public Policy di Amazon, Piero Crivellaro. Il nostro obiettivo non è soltanto quello di permettere alle imprese siciliane di commercializzare i loro prodotti con i canali dell'e-commerce, ma è quello di avere la finestra col banner Sicilia, questo che significa che l'utente finale sarà attratto dalla Sicilia stessa e li troverà tutte le imprese siciliane. Io penso che l'immagine della Sicilia sia molto riqualificata nell'ultimo periodo e sia un valore aggiunto, non a caso nelle fiere tradizionali che facciamo lo stand della Sicilia assieme a quello della Toscana sono gli stand più visitati. L'obiettivo è quello di trasferire questa esperienza sui canali online. Credo che sia una grande opportunità per tutte le imprese siciliane, c'è grande materiale, ci sono grandi prodotti, c'è grande interesse all'estero di tutta questa produzione che avviene nella regione, quindi penso che oggi con grande lungimiranza sia l'assessore che il presidente hanno siglato questo accordo che porterà nuove imprese e a vendere online i loro prodotti, quindi molto positivo e grandi opportunità per il domani. È già il secondo anno e sta andando molto bene, oggi abbiamo più di 1100 imprese della regione che operano sul nostro sito Amazon.it, l'anno scorso hanno esportato più di 20 milioni di euro di prodotti all'estero, quindi numeri molto importanti e grandi opportunità per il futuro. La mia vetrina è nata quasi un anno fa, poco più di un anno fa, è stato un lavoro all'inizio intenso dal punto di vista delle ore e spese per capire come funzionava, ma il programma Accelerra con Amazon ti dà una mano straordinaria da questo punto di vista e i risultati sono visti immediatamente e speriamo di chiudere anche il 2021 con una crescita importante.